Il lavoro che Bottega degli Apocrifi sta conducendo in questi mesi, in così breve tempo, con tanti ragazzi, con le scuole, sono più di 150 ragazzi in questo spettacolo, è veramente incomiabile. È incomiabile il lavoro e la passione di Cosimo, di Stefania, di tutte le ragazze e i ragazzi che si sono implicati con questa compagnia e che rendono il teatro un lavoro sociale, culturale, politico, di accoglienza, di inclusione, di comunità, come si dice. Pace di Aristofane è evidentemente una commedia che dà delle indicazioni chiare alla politica del tempo, alla politica di Atene, ma sicuramente anche alle vicende politiche della nostra regione, della nostra città. Il teatro pubblico pugliese non può che essere vicino, attento e a fianco a queste realtà di teatro sociale, di teatro educativo, perché soltanto con l'educazione ai piccoli ragazzi, con l'educazione alla cittadinanza e che possiamo creare dei cittadini consapevoli e critici per il futuro della nostra città.